ricomincia il tanto atteso viaggio da zero dalle basi alla completa consapevolezza e autonomia nella creazione e gestione nel tempo di una strategia di trading e di investimento che sia profittevole sul lungo periodo e non solo finché ci va di culo siamo alla seconda stagione che tratterà l'operatività quindi nella prima abbiamo parlato di concetti di tanta teoria utile mi raccomando a tal proposito se non l'avete ancora vista recuperatela subito altrimenti rischiate di non cogliere appieno il contenuto il suo valore della stagione 2 quindi vi lascio qua la playlist con tutti gli episodi passati la stagione 2 sarà operativa quindi andremo a costruire un portafoglio partendo dal nulla oggi parliamo di asset allocation ovvero come andare a definire il capitale che si può investire a seconda delle proprie condizioni economiche e soprattutto come capire il modo in cui investirlo e sarà le fondamenta per iniziare la costruzione di un portafoglio e di una strategia di gestione capitale del lungo periodo che può dare grandi soddisfazioni buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti so che l'aspettavate da tempo ve l'ho fatta sudare ma perché ho voluto farla ci tenevo a farla con molta precisione e completezza non buttarla lì in poco tempo ora è arrivata e se riesco una puntata alla settimana ve le faccio uscire tutte ne ho già fatte moltissime e vedrete che saranno ricche di contenuti e spunti operativi soprattutto andremo a imparare la gestione di un trading system la gestione di un trading journal un diario di trading andremo a capire come integrare trading e investimento ma con esempi concreti non solo a parole quindi spero che apprezzerete come avete apprezzato la stagione 1 se apprezzate sempre a tal proposito i miei contenuti i miei video tutto quanto mettetemi cortesemente un like mi basta quello e mi fate sentire gratificato e mi gasate mi fate venire voglia di produrre contenuti sempre più di qualità iscrivetevi al canale mi raccomando cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un video di quelli che faccio uscire infine seguitemi sui canali social di cui trovate i link in descrizione ora basta chiacchiere e andiamo a vedere questa asset allocation come impostarla ricominciamo questo viaggio con la seconda stagione di trading consapevole partendo dall'asset allocation che è il primo discorso ad affrontare in termini operativi in termini concreti per costruire delle solide fondamenta alla propria strategia di investimento e trading quindi i discorsi di cui parleremo oggi con l'aiuto con l'ausilio di queste slides che vi ricordo sono scaricabili gratuitamente dal link a google drive che trovate qua sotto nella descrizione parliamo di tolleranza al rischio quanto rischiare come rischiare quali sono le diverse classi di rischio a seconda degli asset quanto esporsi in termini proprio di monetizzazione di capitale da utilizzare insomma tutto quello che c'è da sapere per partire detto in maniera molto molto semplice poi da qui nelle puntate successive andremo ad approfondire sempre di più in maniera prettamente operativa stavolta ve l'ho detto non parliamo più di concetti perché li do per scontati do per scontato che abbiate seguito la prima stagione e vi consiglio di farlo se non l'avete ancora fatto qui parliamo proprio di pratica quindi appunto bypassiamo tutti i discorsi teorici e le parole iniziamo quindi con gli obiettivi del nostro investimento alla fine di queste slides farò un piccolo raffronto tra investimento e trading che sono termini utilizzati spesso e volentieri in maniera impropria nonché uno al posto dell'altro eccetera eccetera ma come vedremo sono due termini che si integrano l'uno con l'altro nel senso che uno va a sopperire l'altro sono due operatività diverse che si sposano bene però l'una con l'altra e secondo me quello è l'ottimo cosa perché noi dobbiamo investire allora qui ho elencato una serie di motivi potenziali che ognuno potrebbe avere chiaramente ognuno ha il suo che può essere tutelare il capitale dall'inflazione quindi evitando di lasciare cash nel nel conto evitiamo appunto di farci erodere ogni anno quel 2 per cento quello che è imposto appunto dall'inflazione i prezzi aumentano il denaro perde di valore ottenere un'ulteriore fonte di rendita quindi liberarsi se vogliamo dalla schiavitù del solo stipendio come unica fonte di entrata e questo è l'inizio diciamo così spesso di un percorso verso l'indipendenza e l'educazione finanziaria che l'ho riportato anche sotto come ulteriore obiettivo dell'investimento ma spesso lo scoprire cosa vuol dire avere un'altra fonte di rendita derivante dai propri investimenti sveglia molte persone ecco accendo una scintilla creare o crescere un capitale familiare da tramandare in eredità questo per lasciare qualcosa insomma agevolare la vita di chi verrà dopo di noi lasciandogli appunto il nostro patrimonio che abbiamo accumulato oppure mantenuto se a nostra volta lo abbiamo ricevuto nel tempo è una cosa veramente importante crearsi un fondo pensionistico privato quindi se vogliamo mettere da parte qualcosa in più oltre a quello che magari i fondi comuni pensionistici già danno possiamo appunto crearlo con un'ottica ovviamente di lunghissimo periodo in questo caso e andare a integrare appunto la rendita anche con dei piccoli investimenti chiaramente poi impostati con un'ottica adeguata perché a seconda poi degli obiettivi dovremmo avere un'ottica con un orizzonte temporale differente in pratica riassumendo tutto quanto lo scopo di un investimento che va questo questa frase va bene per tutti è far crescere il proprio capitale nel tempo il più possibile controllando il rischio questo è una frase che sembra banale ma non la è perché qui abbiamo due variabili ovvero il più possibile e controllando il rischio il più possibile mi impone di andare a cercare quegli asset che crescono di valore più degli altri però controllando il rischio è una cosa che va contro quest'ultima quest'ultima affermazione perché solitamente gli asset con maggior potenziale di crescita sono quelli più rischiosi e quindi mettere insieme queste due cose ovviamente trovare il punto di ottimo tra rischio e rendimento è sempre l'equazione fondamentale dell'investimento nonché il santo graal se vogliamo deve essere esattamente il nostro scopo e questo si ottiene con diverse tecniche che andremo a imparare e approfondire in questi episodi iniziamo dalle basi ovvero io devo decidere quanto posso permettermi di investire e per fare questo devo farmi conti in tasca banalmente io non posso fantasticare su investimenti folli se poi faccio fatica ad arrivare a fine mese chiaro bisogna essere estremamente onesti e sinceri con se stessi domanda da farsi è quanto posso permettermi di allocare nell'investimento chiaramente non è che bisogna farlo tutto in una volta si può ogni mese ogni semestre ogni trimestre ogni anno insomma in base a diversi fattori che poi dovrò valutare io personalmente in base a quello che mi entra quello che mi esce banalmente durante il corso dei mesi posso valutare appunto con periodicità di dedicare una fetta di capitale a un portafoglio di investimenti fare dei piani di accumulo fare insomma allocare quel capitale lì al portafoglio di investimento quindi avremo immaginatevi virtualmente due conti diversi quindi uno è il conto cash che mi tengo lì in banca e l'altro il mio conto dedicato agli investimenti che potrà essere cash oppure per l'appunto investito però è dedicato appunto a un capitale da investire quindi facciamo un calcolo molto semplice partiamo dalle mie entrate che sono le fonti di rendita che già ho quindi stipendio proprietà redditi di qualsiasi tipo ciò che mi entra da questo ovviamente devo sottrarre le spese fisse quello che devo pagare debiti affitti bollette tasse insomma tutto ciò che esce e esce in maniera periodica spese fisse per questo perché sono facilmente prevedibili spese variabili anch'esse da detrarre dalle entrate tutto quanto va detratto dalle entrate in verità perché l'entrata è il flusso di cassa in ingresso poi abbiamo diverse uscite e alla fine uscirà il capitale investibile quindi spese variabili quali possono essere manutenzioni auto manutenzioni casa spese mediche spese figli ci ho messo varie cose qui anche le vacanze perché non è che bisogna smettere di vivere per investire tutto quanto e quindi queste le vado chiaramente a detrarre queste spese hanno di particolare di non essere prevedibili per questo motivo cuscinetto cash è un'altra cosa da tenere lì una sorta di scorta un serbatoio di cash per l'appunto da tenere sul conto in banca per quale scopo per affrontare spese impreviste quindi spese variabili può succedermi qualsiasi cosa insomma mi si può guastare l'auto domani mi si accende la spia del motore e devo portarla dal meccanico a un costo posso avere spese mediche improviste posso avere insomma qualsiasi tipo di spese io devo essere tranquillo di poterle affrontare perché l'investimento non mi deve togliere sicurezza comunque nella vita l'investimento è una cosa in più devo potermelo permettere attenzione la rimanenza da tutto ciò quindi rimane come capitale investibile ok quindi già si capisce che se io non ce la faccio la cosa su cui posso agire sono le spese variabili e le entrate quindi posso lavorare di più oppure spendere di meno fondamentalmente per avere più capitale l'unico modo è quello è inutile girarci intorno e raccontarsi favole mi raccomando non investiamo quando non ci possiamo permettere di farlo perché altrimenti rischiamo di detrarre capitale dal cuscinetto cash che ci può sempre servire appunto per gli imprevisti vari quello è molto più importante di avere un capitale investibile piuttosto eliminiamo spese non necessarie cerchiamo di aumentare le entrate e allora lì poi vado a investire l'eccedenza il mio quadro economico ovviamente influirà anche sulla mia tolleranza al rischio se ho maggiori spese e quindi dovrò non lo so avrò bisogno di un cuscinetto cash un po più grande io investirò di meno e quello che investirò magari non è che voglio perderlo vorrò magari avere un minor rischio a fronte di un minor potenziale rendimento e questo ovviamente è una cosa personale devo sapere io quanto sono tollerante al rischio in base alla mia condizione economica in base al numero di figli che ho in base al numero di idee alla quantità di debiti che ho insomma è tutto un discorso personalissimo lì non mi addentro nei particolari perché ognuno ha la propria situazione e deve sapere quanto può permettersi di investire e rischiare l'importante è seguire questi preconcetti nozioni importantissime che vanno a integrarsi con quanto detto poco fa il capitale investito non mi deve minimamente condizionare la vita quindi non devo mangiare pane e acqua per ridurre le spese variabili e avere più capitale da investire non devo investire troppo rimanendo senza liquidità quindi senza il cuscinetto cash detto prima sì devo rinunciare agli sfizi inutili se voglio avere maggior capitale investibile posso semplicemente insomma tenendo dei budget mensili vedere dove vado a spendere di più o di meno e dove potrei evitare di spendere di più o di meno vizi e cose varie e dedicare quel capitale al portafoglio di investimenti fidatevi che basta anche quello che sembra poco per riuscire a cambiare poi nel corso del tempo la propria situazione se si è costanti se si riesce a focalizzare bene i propri obiettivi si riesce a ottenere veramente grandi risultati con piccole rinunce ovviamente ci vuole il mindset adeguato se ci si trova in una situazione difficile tipo l'iperindebitamento difficoltà arrivare a fine mese e cose simili non si è nelle condizioni di pianificare un investimento quindi dimentichiamoci di metterci ad acquistare azioni ad acquistare bitcoin a fare cose di questo tipo se però non arriviamo a fine mese ok questo deve essere chiaro come l'acqua conviene lavorare su altri aspetti della propria situazione finanziaria quali le entrate e le spese quindi piuttosto lo so è una cosa brutta però trovarsi un ulteriore lavoro piuttosto che cercare un lavoro meglio retribuito piuttosto che non lo so insomma cambiare la propria situazione di entrate e uscite a parole è facile a fatti molto meno però di certo non è una situazione in cui conviene investire questo sia chiaro altrimenti si esagera con il rischio quindi io ora che abbiamo capito le basi diciamo l'abc andiamo a capire come allocare il capitale investibile ho capito quanto posso investire ma dove lo vado a investire allora la frase da libro di testo diciamo così è voglio investire in qualcosa che può aumentare di valore nel tempo quindi io posso osservare i trend quindi analisi grafica oppure fare analisi fondamentale ok quindi posso andare ad acquistare un titolo un bene un qualcosa un immobile nel quale vedo nel tempo una crescita del valore perché per motivi fondamentali tipo l'immobile è in una città il cui valore immobiliare in crescita perché vari motivi piuttosto che acquisto il titolo questo titolo perché al momento è sottoprezzato l'azienda comunque ha sempre ottimi utili tutela gli investitori eccetera eccetera oppure semplicemente guardo un grafico dall'alto time frames mensile nonché settimanale vedo comunque un'impostazione di uptrend e quindi io dico vedo che il mercato sta spingendo questo titolo al rialzo investo in questo titolo una cosa utile per capire la fase di mercato in corso in termini appunto di analisi grafica è osservare gli indici quindi possono essere gli indici azionari come il fuzimib come il dax come lsp500 per andare a vedere l'andamento dell'azionario di un particolare paese di una particolare categoria eccetera eccetera ci sono indici per ogni gusto e per ogni categoria tipologia collocazione geografica eccetera eccetera e cosa vado a vedere in questi indici i trend chiaramente faccio un'analisi tecnica di base diciamo così trend intesi come medie mobili impostazione delle medie mobili higher highs higher lows supporti e resistenze e è sufficiente fermarsi qui è inutile diventare matti su un'osservazione da questa ampiezza ok non è che stiamo facendo speculazione stiamo andando a cercare di capire com'è impostato dall'alto un trend quindi è una delle cose più semplici voglio diversificare i miei asset chiaramente non ha senso investire tutto in una singola in un singolo asset in un singolo bene in una singola categoria attenzione però spesso si diffonde il mantra della iper diversificazione che secondo me è dannosa iper diversificare non ha senso perché perché faccio fatica a tenere a seguire il mio investimento a vedere come sta andando a seguire le categorie degli asset nei quali ho investito perché l'asset nel quale investo io lo devo conoscere lo devo seguire non è che compro una cosa perché mi piace il grafico poi la mollo lì e ci riguardo poi in futuro no io lo devo seguire giorno dopo giorno devo leggere le notizie leggere i report della dell'azienda se si tratta di un'azione perché devo sapere se i termini di analisi fondamentale o di analisi grafica se sto seguendo quella secondo i quali sono entrato in questo investimento sussistono ancora quindi devo avere chiaro come l'acqua cosa sto facendo e come stanno andando i miei investimenti ovviamente poi spesso più una cosa la si capisce se uno segue bene certi titoli sa come si muovono conosce le loro stagionalità e aumenta la sua performance in quei titoli lì in quegli asset lì quanti di voi magari conoscono molto bene le cripto e riescono bene a comprendere a cogliere dei segnali nelle cripto e magari poi in altri mercati non funzionano ecco questo è un caso di conoscere molto bene un ambito dove conosco e dove devo concentrarmi o altrimenti se voglio estendere il mio portafoglio il mio paniere di investimento prima devo studiarmelo come si deve quindi mai buttarsi su qualcosa che non si conosce su questo concordo con warren buffett infine voglio controllare il rischio che è una frase che vuol dire tutto vuol dire niente perché detta così ovviamente è un precetto privo di significato però il senso è che devo impostare una strategia di quantificazione del rischio di investimento quindi io devo sapere quanto sto rischiando in qualsiasi momento e di taglio delle perdite perché l'unica cosa che si può controllare sono le perdite il guadagno non lo si può conoscere le perdite le si può limitare quindi quello è ciò che definisce in maniera matematica il mio rischio e deve essere utilizzato veramente con precisione e con continuità tagliare le perdite controllare le perdite in questo modo si controlla il rischio la piramidazione del rischio è una strategia molto semplice da utilizzare per andare a costruire il proprio portafoglio cosa significa immaginiamoci appunto una piramide dalla base alla punta la base più ampia la punta più stretta la base deve essere solida cosa significa significa che la base del mio portafoglio ovvero la parte più consistente deve essere fatta da asset a rischio più contenuto ok questo per evitare di sbilanciare il mio portafoglio a un portafoglio troppo speculativo cosa che non è diciamo adesso poi ci sono sempre eccezioni però solitamente non è cauta non è furba se mi immaginassi di parlare con l'investitore medio mi sentirei di consigliare questo utilizzo per esempio degli asset che danno un rendimento posso immaginare dei titoli azionari da cassettista come può essere non lo so io ad esempio poco tempo fa ho acquistato delle azioni dell'eni in questa ottica piuttosto che coca cola pepsi insomma quelle azioni che bene o male storicamente hanno cioè rappresentano aziende ovviamente insostituibili e che possono soltanto crescere nel tempo in quanto la concorrenza o non la conoscono o comunque la dominano e inoltre mi danno una cedola un rendimento un dividendo ok quindi questo è un per farvi un'idea di avere una base del portafoglio può essere una cosa di questo tipo con la maturazione di tali asset poi più la mia base solida cresce e insomma chiaramente ricevendo dividendi con la crescita del valore nel tempo eccetera eccetera posso approfittare di una maggior cassa di un maggior liquidità con essa poi posso usare su investimenti più speculativi però attenzione gli investimenti più speculativi li posso mi posso permettere di farli soltanto una volta che ho la mia base che mi frutta nel tempo ok quindi magari col rendimento del primo anno per dire di questi investimenti a rischio più contenuto lo utilizzo tale rendimento per acquistare investimenti più speculativi chiaramente anche per questo vale il discorso del conoscere ciò che si sta acquistando e di sapere quello che si sta facendo però il discorso della piramidazione del rischio è importantissimo proprio perché vedo molte persone che invertono questo principio ovvero non hanno voglia di guadagnare poco non hanno voglia di magari hanno un capitale non troppo alto da investire allora dicono boh io rischio io oso perché altrimenti tanto non ci guadagno niente ecco questo è un discorso sbagliato perché in questo modo si rischia più di costruire un capitale si rischia di distruggerlo perché il rischio diventa eccessivo e ingestibile quindi piramidare il rischio in questo modo è una prima strategia fortissima per contenere e controllare il rischio quello che abbiamo detto poco fa ok questo è una concretizzazione di quanto detto prima in maniera molto più astratta esempio banalissimo è ovviamente qua non c'è neanche tutte non ci sono tutte le categorie di asset che esistono e abbiamo un diagramma d'albero capitale investibile lo splittiamo medio basso rischio medio alto rischio questo per dare un'idea di come si può splittare ad esempio un capitale investibile medio basso rischio ovviamente alla base abbiamo bond e cash dove insomma è la liquidità fondamentalmente ovviamente adesso il discorso bond diventa meno meno conveniente del cash quindi è quasi da escludere del tutto visti i rendimenti negativi e azioni da cassettista o etf ecco adesso io non sono qui per parlarvi dei diversi asset esistenti magari in futuro ne potremo parlare però etf sono detto in parole povere delle sorte di fondi indicizzati quindi c'è l'etf che ne so del settore farmaceutico l'etf mercato italiano l'etf standard and poor 500 l'etf delle azioni ad alto dividendo insomma ce n'è davvero di tutti i colori e di tutti i gusti azioni da cassettista sono quelle che vi ho citato prima ad esempio potrebbero essere che ne so eni piuttosto che coca cola pepsi amazon eccetera eccetera che fondamentalmente sono in ottica di lungo periodo danno una discreta sicurezza e una cedola un dividendo ok medio alto rischio invece abbiamo tutti quegli asset più rischiosi come le cosiddette growth stocks che sono quelle azioni un po più volatili con maggior potenzialità di crescita ma maggior rischio small cap quindi le azioni di azioni a bassa capitalizzazione materia prime asset speculativi real estate potrei andare avanti fino a domani e poi ovviamente abbiamo criptovalute lending peer to peer defy e cefai che sono quelli forse a più alto rischio in assoluto ok poi ovviamente anche quando non esiste una classifica obiettiva oggettiva del rischio a personale io ho incluso vabbè le come asset a maggior rischio le cripto per ovvi motivi di volatilità il lending peer to peer perché io lo trovo rischioso magari ne parleremo ne potremo parlare in futuro ma insomma se ne parla tantissimo del lending peer to peer ma ci vuole sempre un occhio di riguardo defy e cefai un po per gli stessi motivi quindi sono si tratta davvero di allocazioni di capitale ad alto rischio chiaramente qua non ce l'ho messa ma ci dovrebbe essere una piramide la cui base è qua sopra e la punta è qua sotto perché la maggiore allocazione del capitale val la pena metterla su asset a rischio minore una cosa che non ho detto che dico ora che ovviamente la situazione di rischio come dicevo all'inizio è personale quindi io magari ho 30 anni e quindi posso avere una tolleranza al rischio maggiore di una persona che magari ne ha 50 e si trova a dover pagare dei debiti e si trova ad aver non lo so due figli eccetera eccetera ovviamente in base alla propria tolleranza al rischio andrò a pesare un po di più la punta della piramida un po meno però il mio personalissimo consiglio è di farla comunque rimanere una punta e non farla diventare una base altrimenti ci troviamo davvero con un portafoglio volatile e rischioso investimento o trading eccoci qua qua vi volevo allora investimento o trading sono due concetti diversi ma che si sposano bene investimento per me significa allocare il capitale su asset nei quali percepiamo un maggior valore futuro rispetto ad oggi chiaramente quindi è come dire io non voglio cash perché il cash perde valore nel tempo io voglio un qualcosa che maturi valore nel tempo quindi al posto del cash io investo il mio capitale in questi asset proprio perché ci percepiscono in long term un valore maggiore ok quindi non ho un intervallo di tempo definito è un'alternativa alla liquidità per avere un qualcosa di valore in portafoglio il trading di contro ha un intervallo di tempo ben definito limitato che può essere un giorno un mese un anno due anni però lo scopo è fare un profitto in un intervallo di tempo limitato quindi si sposa con l'investimento per quale motivo ve lo dico subito come copertura dell'investimento se io ho investito in qualcosa che per me acquisirà valore nel tempo crescerà di valore nel tempo come può essere un'azione supponiamo di un'azienda in cui ho fatto le mie ho studiato ho fatto le mie analisi e quindi ho deciso di acquistare quell'azione ma magari il mercato in recessione in un certo periodo e quindi uso il trading per operare magari short e coprire il mio investimento quindi evitare le perdite minimizzare le perdite addirittura trasformarle in un guadagno come in answer dell'investimento io ho investito in qualcosa supponiamo vi faccio un esempio che secondo me è molto popolare io ho investito in bitcoin perché credo nel valore futuro di bitcoin e quindi durante i momenti di uptrend io vado addirittura anche a operare speculativamente long in acquisto andando a amplificare la mia posizione per guadagnare ulteriori bitcoin e al contrario quando scende come dicevamo prima come copertura lo vado a shortare però questo senza vanificare il mio investimento ok rimane il mio investimento in bitcoin e questo mi va ad amplificare i guadagni o a minimizzare le perdite ovviamente lo scopo è questo perché poi il trading comporta di per sé tutta una suite di rischi che andremo a vedere nelle prossime puntate perché parleremo di creazione di un trading system e di come gestirlo e bisogna conoscerli però detto in parole povere e semplici il trading e l'investimento sono per me complementari esiste anche il trading stand alone ovvero io parto col mio capitale in euro e faccio trading e basta a scopo meramente speculativo è una cosa che io personalmente non faccio molte persone fanno è secondo me è più rischioso è più difficile che integrare il trading con l'investimento personale mia operatività io solitamente dedico al trading un capitale estremamente limitato che può arrivare al 5 per cento del mio portafoglio di investimento questo per non sbilanciare i rischi ma perché il trading può dare veramente tante soddisfazioni e inoltre dare insomma con un capitale basso può anche far fruttare molto bene però attenzione che non c'è niente di più facile che bruciare il capitale facendo trading quindi attenzione facciamolo molto molto bene e con consapevolezza per terminare il ciclo di vita di una posizione qualsiasi che sia trading che sia investimento è questo entry strategy management strategy e exit strategy abbiamo queste tre fasi che si susseguono ovvero l'ingresso quindi io quando è che entro quando è che acquisto quando è che apro una posizione da cash ad asset management ovvero gestione investimenti in itinere copertura amplificazione di esposizione trading oppure uscite parziali cose di questo tipo limitazione delle perdite tutto ciò che è durante la posizione e infine exit strategy perché sia che abbiamo un investimento sia che abbiamo una copertura ho un trade devo sapere quando uscire quindi magari investimento esco quando un'azienda inizia a performare peggio del previsto e allora voglio andare a spostare il mio capitale da quell'azienda lì a un altro asset piuttosto che nelle fasi di iper estensione del mercato io la mia strategia prevedo un'uscita bene ecco tutti questi discorsi qua queste tre cose queste tre fasi da sole se ne potrebbe parlare per ore 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 da quello che faremo nelle prossime puntate affronteremo una ad una tutte queste fasi a seconda delle varie strategie di investimento di trading che si possono andare ad implementare termino ringraziandovi dell'attenzione ricordandovi che ci vediamo la prossima settimana con la puntata numero due che non vi spoilerò cosa tratterà ma ovviamente qualcosa l'avrete già capito immagino e vi ricordo che mi potete seguire su telegram al link qua presente nella slide che è scaricabile qua sotto gratuitamente e per seguire le mie idee sul mercato delle cripto ovviamente perché io è di quello che mi occupo se siete qui per caso vi dico che io principalmente opero sulle cripto anche se sono un investitore poi in toto diciamo e se mi vuoi sostenere puoi utilizzare i miei referral link sui vari exchange o per acquistare un ledger se vuoi holdare le cripto e ve li lascio qua potete condividere liberamente queste slides con chi volete basta che diciate che le ho fatte io basta non chiedo nient'altro mi sembra giusto detto questo vi ringrazio di nuovo per l'attenzione ci vediamo alla prossima la prossima